L'importanza che per noi in questo periodo, come si è sempre detto, le partite sono determinanti, sono importantissime. Poi domani si affronta una squadra che può essere una diretta o un corretto per la salvezza, quindi ha un'importanza maggiore. Senza caricare le partite non significato che non hanno, perché di decisivo non ci può essere assolutamente nulla. Quindi partita per noi è importante e abbiamo la consapevolezza della grande difficoltà della partita, perché mentalmente le prerogative sono favorevoli agli avversari. Perché stanno caricando questa partita come la partita dell'anno, perché hanno avuto un cambio d'allenatore e quindi una scossa dal punto di vista psicologico. Quindi hanno tutti i presupposti per entrare in campo con una determinazione unica. E la risposta nostra deve essere della squadra che si sente in lotta per la salvezza. Se abbiamo questa consapevolezza, ribattiamo colpo su colpo, se ci sentiamo quasi in salvo, sarebbe un problema enorme perché la loro determinazione ci potrebbe creare delle difficoltà enormi.